ciao da fatina birichina e oggi vogliamo presentarvi bat pat il pipistrello più simpatico che ci sia è arrivato in edicola visto in tv guardate un po noi ne abbiamo acquistati due e sono questo qui che c'è sul poster e questo qui col vestitino di zucca dieci bat pat tutti da collezionare guardate sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici è andato bene sì allora sono alti più di dieci centimetri ah no sono dieci dieci bat pat tutti da collezionare e noi abbiamo preso questo che mi sembra elvis e zucchetta adesso andiamo a scartarli così ve li vediamo bene nei dettagli aspetta che facciamo così scegliamo il poster ah così si vedono meglio bene eccoli qua la cosa bella è che si possono scegliere sono sempre prodotti sbabam e questa cosa di della trasparenza delle buste è una cosa davvero interessante perché almeno si può evitare di trovare doppioni allora spingi che ne diresti di aprire il nostro primo pipistrello quale vuoi aprire ok vai ce la possiamo fare ci vuole la forbice ce la facciamo perfetto ok bello guardate dobbiamo vedere come si chiama intanto allora aspetta che vediamo cosa si chiama si chiama ah guarda ok vediamo qua dietro dieci bat pat tutti da collezionare allora dov'è lui no lui è rock and roll ok ce l'abbiamo fatta no è lo stesso dai vediamo facciamo vedere intanto com'è allora sembra proprio elvis sì è lui guardate un po il ciuffo le sue super orecchie da pipistrello i suoi dentini affilati i suoi occhioni nasino rosa è davvero elegantissimo una vera rock star bello tutto vestito di bianco con la cintura rossa e arancione troppo carino e simpatico guardate che musetto allora adesso andiamo a scartare ok vai pipistrello di halloween questo è perfetto per halloween eccolo qui è dentro la zucca guardate ha il cappello di zucca il vestito di zucca lateralmente escono sia le braccia le manine e anche le ali guardate che bellino sono molto belli è vero sono grandi guardate anche lui con i suoi dentini suo musetto simpatico e ovviamente il piedistallo un quadratino di lego vediamo come si chiama ecco qui lo cerchiamo ovviamente si chiama pumping ecco qui noi cercavamo dire la verità anche la mummia però non l'abbiamo trovata ma sono tutti carini a me piaceva anche dinner questo col bavaglino qua c'è quello con i tamburi questo ha il fischietto guardate che ciuffo il punk beach con il salvagente rasta con i suoi capelli proprio e poi gipsi questo con gli orecchini anche questo mi piaceva sono tutti davvero carini allora ritorniamo a farveli vedere un attimo eccolo qua ed eccolo qua i nostri due amici back up bene non vi dimenticate di richiedere anche la piccola rivista che viene data insieme alla bustina qui dove all'interno c'è una piccola storiella di lionello il gufo poi c'è il gioco dell'oca dopo altri giochini labirinto unisci i puntini trova le differenze poi ho saltato una pagina non riesco a girarla eccola qua dopo colore il vampiro trova l'ombra corretta è arrivato mister balù è bello questo vediamo nuovo amico che rallegra le nostre feste mister balù è una bombola che ti permette di gonfiare divertenti palloncini colorati con elio in modo semplice ed economico e dopo abbiamo le soluzioni e la fine ecco qua e a questo punto vi ricordiamo che li troverete in edicola e che sono prodotti sbabam fatina birichina e vi salutano ciao ciao e alla prossima non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i video successivi e attivate la campanella delle notifiche così sarete avvisati quando pubblicheremo i prossimi video ciao ciao e alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.